ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi voglio parlarvi di un'altra stampante 3d una piccola grande stampante la lv neptun 2s ragazzi la vedete piccola ma i risultati sono grandiosi perché stampa effettivamente bene ora io non voglio perdere tanto tempo nell'introduzione vi dico direttamente il prezzo e poi passiamo alle inquadrature dettagliate sia di ciò che ho realizzato che della stessa stampante quindi il prezzo è 200 euro sul sito del venditore e spero di ottenere anche un codice di sconto e 229 euro su amazon amazon anche se costa 20 euro in più circa ci offre tante garanzie tanto all'assistenza arreso eccetera eccetera quindi poi valutate voi eventualmente dove acquistarle spero di ottenere pure un codice di sconto su amazon farà pagare un poco di meno ora cambiamo inquadratura guardiamo la stampante guardiamo tutte le sue caratteristiche davvero interessanti dei materiali insomma tutto ciò che riguarda secondo me è fatto bene ma valuterete voi dalle inquadrature e guardiamo anche pezzi quindi iniziamo e allora partiamo con un inquadratura panoramica della nostra stampante 3d la elego neptun 2s sulla parte alta abbiamo il reggibobbina poi abbiamo il profilo in alluminio sulla parte alta da 20 mm per 20 mm e montanti invece sono da 20 mm per 40 mm sulla destra c'è l'alimentatore la ventola ovviamente l'ingresso per l'alimentazione elettrica e il tasto di accensione poi un altro profilo su quale scorre il nostro hotend questo è il tubigino boden ecco abbiamo l'estrusore tutto in metallo con la doppia ghiera dentata questo è il sistema a molla che ci permette di inserire il filamento tutto scorre sulle ruote come sempre centri che che si possono regolare in modo da decidere quanta pressione dare sui vari profili le ginghe sono tutte regolabili sia per quanto riguarda l'asse x per quanto riguarda l'asse y quindi basta sfidare eventualmente queste due viti a brugola fare scorrere avanti indietro modo da dare la giusta attenzione per quanto riguarda invece l'asse y bisogna spostare altre brugole da questa parte fare scorrere avanti e indietro questa parte poi abbiamo ovviamente le rotelline per poter fare il livellamento livellamento facilissimo su cinque punti quindi quattro angoli più quello centrale il piatto di stampa è in pay flessibile magnetico comodissimo da utilizzare una volta che ha finito la stampa basta toccare il pezzo e lo troviamo già staccato invece ovviamente durante la fase di stampa il pezzo rimane ben aderente alla superficie questi sono i sensori di fine corsa sia per quanto riguarda l'asse x l'asse z e anche per quanto riguarda l'asse y da questa parte troviamo anche sensore di fine filamento considerate che questa stampante durante la fase di stampa se per caso dovesse andare via la corrente oppure dovesse finire il filamento riprenderebbe la stampa esattamente da dove si è fermata nella parte posteriore troviamo l'unico motore per quanto riguarda l'asse z e il motore per quanto riguarda il movimento del piatto di stampa quindi il movimento dell'asse y i cavi come vedete sono tutti relativamente ordinati io non ho messo facette non ho messo nulla però una volta raccolti in questo modo avremo praticamente un unico cavo nella parte sinistra e poi questo cavo con il tubicino per quanto riguarda il filamento che arriva allo tende come su tutte le stampante 3d in dotazioni troviamo anche delle brugole alcune chiavi per poter regolare le ruote una spatolina per staccare pezzi che non serve assolutamente perché pezzi staccano con molta facilità un poco di filamento a fare le prime prove manuale di istruzioni e poi anche una guida rapida per le prime regolazioni prima di utilizzarla poi all'interno troviamo sempre all'interno della busta più grande questo lettore di memory card che ci permette di inserirlo con la presa usb nel nostro computer e quindi di leggere e scrivere file presenti sulla scheda che va inserita nella parte frontale in questo slot e poi possiamo decidere di stampare direttamente agendo sul display touch tra l'altro su questo display rispetto a tante altre stampanti troviamo direttamente l'anteprima del file che vogliamo stampare però parliamo anche del montaggio e del programma per poterla utilizzare quindi per creare i file lo slicer per potere stampare i nostri pezzi utilizza cura ma una versione personalizzata quindi aprirà il logo di e legoo direttamente nel nostro programma di cura e avremo direttamente le stampanti con tutti i parametri già impostati invece per quanto riguarda il montaggio della stampante 3d sempre all'interno della nostra micro sd troviamo un tutorial per il montaggio eventualmente o lo metto alla fine di questo video comunque anche sul web si trovano tanti altri video del montaggio non è una stampante di quelle che arriva montate al 90 per cento bisogna montare praticamente quasi tutto ad esclusione ovviamente dei componenti più complessi quindi guarda l'estrusore già montato lo tende già montato però i vari assi pezzi che mantengono i profili insomma bisogna montarli non è difficile tra l'altro col tutorial risulta ancora più facile l'autolivellamento è semi automatico adesso ve lo farò vedere ma prima di continuare a parlare di queste cose voglio farvi vedere i pezzi perché quello che interessa di più una stampante 3d effettivamente oltre al montaggio che si fa una sola volta poi sono i risultati che si vengono riescono ad ottenere quindi cambiamo inquadratura e vi faccio vedere vari pezzi e allora innanzitutto considerate che alla maggior parte delle riprese l'ho fatto con questo beagle questo cagnolino da guardia che tra l'altro vi recensirò fra pochi giorni però vi lascio comunque il link per fare un'occhiata si tratta di una telecamera che si occupa di riprendere di video sorvegliare ma anche di interagire con la stampante è a un sistema che ci permette di fare delle riprese in timelapse quindi costringe il nostro tende a spostarsi in un angolo ogni volta per poter scattare la fotografia per creare il montaggio video e questo ha causato uno spostamento con una retrazione che non avevo regolato bene e quindi nella parte posteriore ci vedete tutto questo pasticcio ma dipende semplicemente dall'impostazione col dato nell'utilizzo di quella telecamera quindi guardando il vaso sia nella parte bassa che tra l'altro lascia questa finitura così bella mi piace tantissimo che sulle pareti è venuto benissimo anche la parte finale l'interno è venuto spettacolare ovviamente metterò delle riprese durante la realizzazione di questo vaso sia il time lapse davvero interessante bellissimo realizzato con quella telecamera che tutte le riprese del primo strato eccetera 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 comunque guardandolo ragazzi un vaso stampato molto bene mi piace riuscito ovviamente come tutti i vasi non è difficile da realizzare un vaso con una stampante 3d però il risultato è piacevole poi ho voluto realizzare di nuovo questo pezzo che abbiamo fatto conoscere con un'altra stampante 3d che in quel caso mi aveva entusiasmato anche in questo caso mi piace tantissimo le pareti sono riuscite molto bene anche se non abbiamo raggiunto il livello dell'altra stampante però è venuto molto bene quindi tutti i piccoli dentini questo serve a svitare le tappi delle bottiglie per le persone anziane o per chi non ha molta forza comunque effettivamente stampato bene quindi tutte le parti sovrapposte sono state stampate in modo corretto considerate che questi sono dei dentini con tantissimi layer uno sopra l'altro e sono stati stampati benissimo non ci sono perdite dei passi ragazzi perfetto secondo me potrebbe essere quasi un file di test per vedere come stampano le stampante grazie a tutti e poi ho voluto stampare anche quest'altro pezzo che è un porta memory card sia per le schede sd che per le schede micro sd che io tenevo sparpagliate oppure così in barattolini vari stampato direttamente con addirittura le cernierine solo che io sono un pochettino mal destro e quindi da questa parte l'ho rotto colpa mia però per quanto riguarda il risultato ragazzi superficie perfetta mi piace tantissimo la finitura così ruvida che lascia questa questo piatto di stampa e mi piace tantissimo anche la parte interna guardate come è venuto bene dal primo layer quindi il primo strato della stampa fino all'ultimo ragazzi per me questa stampante stampa bene certo non è un top di gamma però effettivamente io non mi posso lamentare soprattutto in proporzione al prezzo quindi un buon risultato io sono soddisfatto ed è una stampata ripeto che consiglio chi vuole avvicinarsi a questo mondo tra l'altro facilissima da utilizzare oppure per chi già in questo mondo e vuole comprare un'altra stampante adesso l'accendo vi faccio vedere anche il menu e quindi il display togliamo questi pezzi spengo la luce così possiamo apprezzarlo meglio e allora in questo modo riusciamo a vederlo sicuramente meglio faccio un pochettino di ombra con il mio corpo come vedete abbiamo diverse voci tutte in italiano perché c'è la possibilità di decidere anche quale lingua utilizzare quindi abbiamo il menu per quanto riguarda le impostazioni sulla macchina per il riscaldamento comandi sull'estrusione oppure il movimento dei vari assi la possibilità di portare tutto in home questo è il comando per il livellamento adesso vedremo è il comando per inserire disinserire il filamento ma si può fare anche manualmente poi abbiamo anche la regolazione dell'offset eccetera andando indietro abbiamo le impostazioni quindi l'impostazione sulla ventola la lingua abbiamo diverse lingue non interessa di più l'italiano ovviamente c'è anche l'inglese la possibilità di spegnere motori e di continuare la stampa dopo che è stata interrotta questo invece il menu di stampa adesso non abbiamo nessun file ma se io inserisco la micro sd vedremo le anteprime dei file da stampare quindi la inserisco e se andiamo su stampa a questo punto come vedete abbiamo lente prima che abbiamo un'anteprima di un piccolo buddha ci permette di riconoscere immediatamente quale file se dobbiamo stampare anziché andare lì a leggere il nome insomma per riconoscerle quindi molto comodo adesso guardiamo però come si fa il livellamento utilizzerò il fogliettino che troviamo direttamente sul piatto di stampa quando la acquistiamo andiamo su strumento andiamo su leveling diamo il comando sul primo quindi si sposterà tutto e andrà esattamente nel primo angolo quindi ora si abbassa l'asse z e ci dà la possibilità di impostare l'altezza facendo in modo che la punta dell'ugello strofini foglio di carta senza trattenerlo e poi dobbiamo ripetere tutto sui vari angoli spostandoci sul secondo terzo quarto e il quinto invece è il comando per farlo bloccare al centro quindi adesso stanno facendo cogliendo stop l'altezza si sposta sul primo angolo ovviamente tutto questo va fatto con la temperatura impostata per come dobbiamo stampare in questo caso il foglio è bloccato ok ok come vedete in questo modo il foglio viene trattenuto leggermente ma non viene bloccato quindi si solleva se io premo sul secondo si sposta su quest'altro angolo e così via su tutti e quattro gli angoli per poi terminare con l'ultimo comando denominato quinto che sposta tutto nel centro del piatto e ci permette di fare un ulteriore verifica per vedere se va tutto bene ed effettivamente questo piatto di stampa è drittissimo non ho trovato alcuna differenza fra i vari angoli perfettamente livellato a testimonianza di ciò i pezzi si staccano immediatamente perché non abbiamo né pezzi troppo schiacciati e nemmeno pezzi troppo sollevati che durante la stampa potrebbero staccarsi adesso solleviamo l'asse z e vi faccio vedere pure il piatto di stampa però accendiamo la luce che è in pay flessibile fantastico e da questa parte invece non è ruvido come l'altra parte quindi ci permette eventualmente di avere una superficie più liscia dei pezzi stampati però ragazzi io ho provato questa parte ruvida e questa finitura a me piace davvero tantissimo poi dipende ovviamente dal tipo di pezzo che dobbiamo stampare e se necessario avere una superficie liscia ovviamente si cambia si mette quest'altra parte ma questa è piaciuta tantissimo è una superficie che da un'ottima aderenza perché a questa finitura così ruvida ma che lascia staccare i pezzi in automatico e quindi non ci fa dannare ragazzi praticamente si può dire che l'ho rimosso solamente per vedere come era fatto poi non lo più rimosso per staccare pezzi ma nel caso in cui per una ragione qualunque non dovessero staccarsi essendo flessibile basta piegarlo leggermente e pezzi si staccheranno in autonomia quindi non è necessario fare alcun tipo di forza insomma con rischio di danneggiarli e allora ragazzi quindi cosa dire di questa stampante 3d per me è una stampante economica che appunto quindi costa poco che ci dà degli ottimi risultati non è una stampata professionale tra l'altro io ho stampato direttamente con i parametri che ho trovato pre impostati non ho cambiato nulla se non la velocità portandola a 80 mm al secondo è ottenuto dei buoni risultati anche con questa velocità che non è bassissima non è la più elevata però non è bassissima quindi se ci si mette a smanettare ancora di più con i vari parametri si otterranno dei risultati ancora migliori ma già così sono più che soddisfacenti se volete comprare la vostra prima stampante con questa farete l'acquisto azzeccato perché secondo me è indicata per chi vuole iniziare spendendo poco e avendo dei buoni risultati ma soprattutto dei componenti fantastici come il piatto di stampa che ci permette di staccare il pezzo con facilità che lo trattiene per bene aderente al piatto durante la stampa che ci dà la possibilità di regolare le ginghe un display ampio con dei comandi semplici e intuitivi una regolazione del piatto che ci aiuta con le rotelline quindi ci porta comunque al metodo tradizionale in modo semiautomatico per me un prodotto valido quindi se volete comprarla vi lascio il link giù nel primo commento nella descrizione valutate se è un prodotto che può piacervi guardate anche le recensioni di amazon per avere ancora più pareri e eventualmente procedete all'acquisto sperando di associare il link ad un codice di sconto detto questo non mi rimane che ringraziarvi di avere visto questo video fino in fondo vi invito ad iscrivervi al mio canale cliccare qua giù per attivare la campanella anche per mettere il mi piace e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto